Start ufficiale per l'edizione 2016, la nonna di sempre, del Trentino Volley Big Camp. Sul Monte Bondone di Trento ha preso il via il primo dei 5 turni settimanali programmati per il camp estivo del Club Giallo Blu. I 35 giorni che caratterizzeranno l'evento sono stati organizzati quest'anno per tutti i ragazzi e le ragazze nate fra il 99 e il 2005, che vivranno così immersi nel verde un periodo splendido all'insegna della pallavolo, affinando le proprie qualità tecniche grazie alla presenza di uno staff di allenatori di primo ordine. Tutte le giornate si articoleranno fra i campi in Tartan e quelli in sabbia presenti in località Bazon sul Monte Bondone. Il programma della settimana prevede attività pallavolistica sia al mattino sia al pomeriggio, ma non mancheranno poi anche i momenti di svago. Il direttore tecnico del Big Camp, Dario Sanna, presenta in questa intervista l'edizione 2016. Le novità sono tante, sicuramente la più importante è la presenza dei big ospiti. Il primo lo possiamo svelare, sarà Gianluca Galassi, nato nel nostro camp, e quest'anno farà la 1, e quindi siamo molto contenti perché per i ragazzi potrà essere un bel punto di riferimento. Si lavora tanto, ci si diverte tanto, immersi nella natura trentina, il Monte Bondone, e qualcosa di particolare da segnalare da questo punto di vista nel vostro programma giornaliero, ma anche settimanale. Ma sì, il contesto del Bondone è sempre meraviglioso. Poi in mercoledì i ragazzi possono stare all'aria aperta perché facciamo i tornei, per cui mangiamo lì nei prati del Bondone. È sempre un'atmosfera fantastica, i ragazzi si rivertono, fa un po' freddo, ma questo ci permette di lavorare all'aria aperta tutti i giorni. Per Trentino Voli Dario San è anche il responsabile del progetto Facciamo Muro AMREF a Nairobi, nel quartiere D'Agoretti, si è appena tornato dall'Africa. Qualche emozione l'abbiamo avuta a modo di vedere anche grazie a quei bellissimi cori che i ragazzi hanno dedicato, qualcos'altro che magari non passa attraverso i social network o le telecamere. La cosa più bella è che ho sentito proprio ieri il responsabile tecnico locale, che naturalmente porta avanti l'attività quando sono in Italia, mi ha detto che i ragazzi continuano a giocare, seguono la nostra pagina Facebook, quindi vedono comunque i nostri spostamenti. Il saluto comunque è la presentazione che abbiamo fatto in Basilica per l'apertura del trofeo delle regioni. I ragazzi sono molto contenti, chiedono solo di poter giocare a pallavolo e speriamo che anche durante il camp possiamo portare questo messaggio a tutti i 430 ragazzi che verranno a trovarci in Bondone. Chissà che magari un giorno non ci sia spazio per vedere qualche ragazzo di Nairobi, di Dagoretti, proprio al camp. Questo sarebbe bellissimo, è comunque uno dei progetti che abbiamo, sicuramente da sviluppare con Trentino Volle e Ambrev, probabilmente la prossima stagione. Big Camp è arrivato alla nona edizione, tu praticamente li hai vissuti tutto e tutti, se ti guardi indietro, cosa vedi? Tanti giocatori che poi sono arrivati ad un certo livello. Assolutamente sì, pensare che molti dei nostri big ospiti sono cresciuti con noi, vederli giocare titolari in A2, vederli comunque fare delle partite in A1 è bellissimo, perché comunque il nostro camp vuole valorizzare i giovani. Non vogliamo avere, come altri camp, dei personaggi che nientano a che fare con Trentino Volle, per cui questi ragazzi sono cresciuti nelle giovanili, hanno passato l'estate con noi, fanno la A1 o la A2, per noi è veramente fonte d'orgoglio. Un messaggio di Dario Sanna per chiudere ai partecipanti, ci vediamo in bondone perché? Ci vediamo in bondone perché ci si diverte, perché è bello stare insieme, perché due di voi saranno i nostri futuri super big player. Grazie a tutti.